Ciao a tutti e bentornati sul canale! Oggi voglio farvi vedere come è semplice preparare in casa due soluzioni molto semplici per combattere il raffreddore. Quando era il raffreddore la notte io utilizzavo sempre il Vicks, quello all'aloe, che mi liberava totalmente il naso, quindi in qualche modo ero quasi dipendente da questo medicinale ed era l'unico che in qualche modo mi sappava il naso. Fin quando poi ho provato il mio stick per liberare il naso dal raffreddore che è questo qui. E oggi vi farò vedere come è semplice preparare in casa appunto questo stick per liberare il naso al mentolo. È un unguento molto semplice per le screpolature che si vanno a creare intorno al naso quando siamo raffreddati. Questi stick li potete trovare da Aromazon come tutti gli ingredienti che vi mostrerò oggi ed è molto semplice da fare e da utilizzare perché all'interno, come poi vedrete nel video, c'è una stecca di cotone che immergerò di oli essenziali e di mentolo per appunto inalare. Quindi gli oli essenziali non sono a contatto diretto, non è proprio uno spray, ma partiamo subito e vi faccio vedere come si fa. Per prima cosa avrete bisogno di cristalli di mentolo, ve ne occorrerà semplicemente uno, dell'olio essenziale di eucalipto e questo è l'essenziale molto particolare che però non è essenziale, quindi se non lo avete in casa per esempio potete sostituirlo con l'olio di menta. Se invece volete potete acquistarlo sempre su Aromazon ed è ottimo per liberare il naso, oltre ad avere tantissime altre proprietà. Scolate bene fin quando si sarà completamente sciolto. Prendete la stecca di cotone del nostro stick, l'inalatore, lo immergete all'interno degli oli, fin quando assorbirà tutti gli oli, poi ponete lo stick all'interno dell'inalatore e chiudete. Ed ecco qui il nostro stick. Libera tantissimo il naso e inoltre è naturale e inoltre può sostituire tranquillamente il classico Vicks. E poi per quanto riguarda le screpolature io vi propongo questo unguento fatto di burro di karité e olio d'oliva. Semplice, semplice. Basterà mettere in una ciotolina 15 g di olio d'oliva e 15 g di burro di karité. Mescolate i due ingredienti insieme fin quando si sarà creata una sorta di cremina. Se volete potete mettere a sciogliere prima i due ingredienti leggermente a bagnomaria e poi metterli nel freezer. Così si andrà a creare più velocemente la cremina, altrimenti dovrete stare lì a mescolare e mescolare tutto il giorno. Ed ecco qui il vostro unguento. Lo potete utilizzare come vi dicevo per le screpolature intorno al naso e le labbra o anche per il corpo, per cicatrici, se avete cicatrici, se avete sbagliature, qualsiasi cosa perché comunque è davvero ottimo. Sia l'olio d'oliva che il burro di karité sulla pelle sono miracolosi. Questo tutorial è finito, se questi tipi di video vi piacciono mi raccomando ricordatevi di lasciare un like e da oggi in poi sul mio Instagram, sul mio IGTV troverete tutti questi video dove appunto vi farò vedere qualche ricettina semplicissima per preparare in casa i vostri cosmetici o altro insomma come questo, che potete tranquillamente preparare a casa vostra. Saranno dei video molto molto semplici, quindi vi aspetto anche sul mio Instagram, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima.